Come primo passo sulla strada della nuova vita, Fantozzi non trovò di meglio che riesumare un antico sentimento, ormai sepolto. Chiesa aiuto per questo un vecchio amico e collega, il nefasto organizzatore geometra Filino. E rientra! Fantozzi, non facci il timido, su, vengi fuori! Fantozzi! Ma cosa fa laggiù, ragioniere? Ma come cosa fa? Ma lei mi ha dato una tambura... Ma su, vengi su, vengi su! Senta, Fantozzi, piuttosto lei è convinto di quello che sta facendo, no perché appena si è liberato di una donna si mette con un'altra, insomma. Scusi, ma non è un'altra? Come? È la signorina Silvani. Beh? Ma come, non ricorda? La medica, miss, quarto, quarto piano. Ah, Fantozzi, non dica sciocchezze, li chiamo. Vabbè, li chiamo. Venite! Fantozzi! Ma chi, ma chi ci va a fare? Non è che ci vado, è che a lei mi ha dato un'altra. Ma chi? Ma cosa c'è là sotto? Ecco, stanno arrivando. Vengi, vengi. Vengi, vengi. Ah, che musica romantica. Tu! Ma come? Scusi, ma scusate un attimo. Che c'è? Ma tutto, è la mia feccia, la mia morosa. Come? La bella signora è già un po' amante. Non le piace questa lezione? Non sembra un po' offensiva. Ne facciamo una più ottimista. Sì, sì. Va bene, ci penso. Scusate che è una canzone d'amore, d'amore. Scusi, Filippo. Fantozzi! Ma ecco, non solo le augura di morire, ma specifica anche il tipo di morte sotto il tram. Ma le piace neppure questa? Ma mi sembra terribile. Va bene, ne abbiamo un'altra. Eccola, signora, un'altra. Aveva un occhio di vetro. Ma, ho seguito, ho detto, mi ha fatto un invito molto, molto svelocito. No! Vuole una cosa allegra? Sì, sì, una cosa allegra. Proprio da ballare? Da ballare? Sì, sì, sì. Vuole una cosa da ballare? Balli, balli, su, avanti, balli, balli, balli! Ah ah, olè! la signorina silvani era da tempo preda di tentazioni suicide dopo la decima ingiunzione di sfratto esecutivo forzoso l'unica tragica alternativa al nodo scorsoio era il ricovero nel pio istituto relitti umani di santa moribonda e da infantozzi una insperata ancora di salvezza e decise di attaccarsi a lui con una cozza allo scoglio sono io eh ah quanto zio è lei si signorina com'è bella grazie perché mi perché mi dì mi dice grazie della bella serenata ma davvero non mi prende per i rifondelli io ma al contrario l'ho trovata molto curiosa strana particolare sai io me ne intendo di queste cose l'altra settimana me ne hanno fatto una smielata spagnolesca duvalle tu come fai? eh duvalle si accomoda prego qua qui? si qua e bevi qualcosa ma mi dà del del tuo oh no è congiuntivo